Giovedì su Italia 1 Hanno invitato a San Diego una squadra di guardaspiaggia per far vedere come si effettua i salvataggi Lo zio Bazzi! Sì, proprio lui, c'è anche Cagli Cagliari! Come va? De caccia! Mi sei mancato! Succedono delle cose molto strane in questo albergo, fin da quando siamo arrivati Secondo una leggenda, in questo albergo c'è un fantasma Bazzi! Stava nella stanza 318, ma è proprio la mia camera Resisti! In prima visione tv, Baywatch, weekend con fantasma, giovedì alle 20.40 su Italia 1 Certi piaceri non hanno età, come poro talco, che oggi è una linea da bagno ricca di oligo elementi Per continuare a darti freschezza Benessere E il profumo di borodalco Linea Borodalco Roberts Io vi faccio un borodalco C'è un gelato cremoso dal sapore squisito E la cremeria, una morbida e ricca cremosità Per un nuovo piacere La cremeria, il piacere è cremoso Vedete, Tonno Rio Mare si riconosce anche ben nati, perché è così tenero Tonno Rio Mare, così tenero che si taglia con un grissino More Than Original La Compilation David Lee Rock Phil Collins Jimmy Sommer More Than Original 16 grandi cover 16 grandi artisti Bacardi, the mixable one Ehi, ma c'è una novità nel banco gelato Frutto da gelato Frutto da gelato E com'è? Buonissimo Ti ho provato tante birre Poi ho scelto te Poi ho scelto te Birra amore Siete sincera Visto quanti amici E sapete perché stiamo ben insieme? Perché ci piacciono le cose schiette e sincere Come la nostra vita Birra amore Viva la sincerità Agli uomini che ogni giorno danno il meglio di sé Gillette offre il suo meglio Gillette Sensor Excel Due lame montate su molle E flessibili microlette Per raderti il più a fondo Gillette Il meglio di un uomo A te Cosa gli diresti Dove stranile così? Vabbè io gli direi Your eyes is magic Come this granel Your gum is long Come the gusto Maxi bon Your book is belle Come on totte stracciatelle You are bon Bon come un Maxi bon Amleto Dai bene mossa questa poesia Oh ma c'hai il cuore Come un ghiacciolo Maxi bon not Ti accede da mordere Un beato te che sei di lingua Per te che desideri Un valido sempre fresco In solo due calorie Questo fresco piccolo Tic Tac Tic Tac La giusta dimensione Della freschezza Quel giorno di dicembre Del 1941 Roosevelt lo battezzò Il giorno degli infami L'aviazione giapponese Attaccò di sorpresa La flotta americana E la distrusse Quasi completamente Sappiate Che finché il comandante In capo della flotta Sono io L'attacco a Pearl Harbor Si farà Il Giappone intende Attaccarci Basta Se c'è qualche comandante Che non se la sente Di obbedire a quest'ordine In caso avessi ancora Una possibilità di pace È meglio Che dia le divisioni Per il ciclo Uomini in guerra Tora 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 Domani Alle 20.45 Su Rete 4 Festività Grazie a tutti